Ammo, guarda che carino quel bambino! Chi è quello, quel pinocchieto? Mamma, mi corre mamma, guarda quanto è bello! No, corre mamma, la mamma c'è l'amore! No, guarda quella piccolina! Guarda, invece gli hanno messo i saldi, vogliamo andare a vedere i saldi lì, guarda che bel negozio! Ma tu la vedi quanto è bella? Bellissima, amore, è bellissima, però andiamo a vedere le scarpe, ti compro un baglio di scarpe, eh! No, e poi vogliamo parlare di quei gemellini, guarda quanto sono belli! Pure i tramezzini però sono belli, eh, guarda, fanno tonno, cipolla rossata e tropeppo, motorini! Sì, sì, gemelli, gemelli! Senti, ammo, ma vogliamo andare in hotel e che mi faccio una bella doccia rinfrescante? Ammo, ma secondo te come sarà il nostro figlio? Eh, che ne so, amore mio, che ne so! Ma tu che dici, sarà maschio o femmina? Felice, ammo, l'importante è che sia felice! Va bene, ma tu che preferisci, un maschio o una femmina? E che te devo dire, a casa mia siamo tutti maschi, mi madre c'ha tre maschi, mi zio c'era quattro e mi zio ha due! Eh, sono nove! Poi da parte di papà te lo dico proprio, undici cugini tutti maschi! Quindi dici che sarà maschio! Che poi te devo dire la verità, io più che maschio spero che non so mia, perché se è femmina ti so mia a te! Ah, sì? Ah, pronta! Bene! Ciao papà! Ciao papà! Ciao papà! Ciao papà! Ciao papi! Ciao papuccio! Ciao papino! Ciao papà! 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 Andiamo! Comunque, lo sai che mi sa che sono incinta? Ciao papà! Ma magari è maschio stavolta! Ciao papà!